Bentornati nel canale, bentornati su Apex con il quarto episodio delle Ranked della stagione 20, oggi da Diamante 4 a Diamante 2. Se volete che questa serie continui, supportate questo video con un mi piace e iscrivetevi per non perdervi i prossimi. E se siete interessati a seguire la scalata in diretta, mi trovate tutti i giorni in live. Buona visione. A quale piano sono, penultimo? Il rev s'arrampica... Raga, non cato il rev! Hai preso il rev? Sì. Era il red? Graaaande! Dio! Piano, 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 piano. No, non più a danni, non più a danni. Due pia ora sono. Che piano sono? Sono questo piano qua ad ora, mi sa. Ora, ora. Vai ora. Questa? In che senso? Non è fatta? Raga, io non ho fatto il caustico io. Vieni giù da me, vieni giù da me. Ciao. Restalo, resto. Ma figa, resta tu che mi devo fare il medic? Che spalla. Io ho lasciato lo swap. E ho capito, e poi sei andato a lutare. Ah, ok. Eh, per prendere lo swap mio, grande. Mi lascio lo swap e io resto senza. Va per noi? Sì. Cringe. Uno, uno. Stop. Cringe, cringe. Chi erano questi? Qui a destra abbiamo altra gente, non ci credo. Quello che prende il lift, quello che prende il lift. Non sto guardando, non sto guardando, non sto guardando. Qui a destra? Qui a destra. Eh, ribocca quella a sinistra però. Muscia questo.. Lo vissi soppato. Uno è noccato. Lo hanno rialtato, lo hanno rialtato. Piano, Nico, piano. Non è rialtato, non è rialtato, nessun altro? Eh... Da sotto. Non significi con gli è spùs. Ho colpito un po', vabbè lo pusho, vai. Eh Dio. Che game. Mica, il Prowler. Porco diaz, il Prowler, raga. Che forte, che è. Let's go. Cosa vuol dire, campione? Non c'è nel mio vocabolario. Cos'è? No, abbiamo per caso vinto. Eh, col tag che... Oh, Maribo si mette il Tog Clan, tre partite di fila buone, di cui una vittoria. No, strano. Buone, un più due, un meno tredici e una vittoria. No, no, mi trovo con Bangalore, no. Ma cazzo vuol dire che non ti trovi? Lo usavi prima. Eh no, perché ora uso perma il salto della muerte. Sono troppo abituato. Eh, con lei fai la smoke della muerte. Bangalore. Minchia. Andiamo in mid? Scuriamo le armi, andiamo in mid, scuriamo le armi. In mid, scuriamo le armi. Speriamo. Io vado giù. Non vado più. Sperò... Davvero? Ti butta su di me? 25 sono. Restami alla porta, restami alla porta. La tripla di Nico! Ma hai fatto un crashino, Nico? No, perché? Per un attimo eri completamente silenziato. Ma no, non è che ero silenziato, è che stavo tryhardando con la mia re 45. Mirage a Troia abbiamo un fight pulitissimo, non c'è nessuno in mezzo. Ah, collettore, ci sono i six manner invece. Eh, ma arriveranno qua da me. Piano, piano, li vedi solo tu. E ditemi quando li vedete però, raga. È sopra. Va bene. Così che va, come sul tetto. In due sul tetto, in due sul tetto. I miei neutralizzatori li faranno a pezzo. Vado? Vai, vai, io ti ho già scildato io, ti ho già scildato io. Tu lo, tu lo? Dai, dobbiamo pushare tantissimo, dobbiamo pushare tantissimo. È uno di vita, l'ultimo. Fast as fuck. Arriva l'altro team. Buono. Annultato anche loro. Fullati, fullati. Copri qua, arriva. Eh, se mi riballa forza, problemi. Armatura blu. Ne brucio uno viola. La mia porta è inagibile. Preso uno full. Mangia, mangia. One. Ma fatemi capire. Per giocare bene, devo raccogliere sempre l'aria 45. Capiamo. Quanti kill hai? Sette. Tutti i diri 45. Boh. Finchia, mi hai recuperato. No, non posso entrare qua. Qua siamo safe. Qua da me siamo safe, qua da me siamo safe. Qua da me siamo safe. Non pushano, vero? No. Rompiamo? Sono ancora lì, butta mano. Non li piccare più, è inutile, non li facciamo niente. Ci buttiamo? Eh, no. Eh, non possiamo. Eh, infatti, non ci possiamo muovere. Dovremmo andare sotto di loro. Eh, ribocchia. Smoke di bengalore. Non li piccare più, non li piccare più. Smoke di bengalore e si va sotto di loro. Zip ce l'ho. Eh, dovresti affacciarti e metterla sotto di loro. Tu vai rampino, lui zip, io L1. Eh, ma raga, è buono fortuna. No, raga, ma le... Ma no, ma... Non ho cato uno. Eh, ho capito. Ma in parte... Ma raga, ma la zipline era verso sopra, Ribo. Io l'ho presa. Cioè, io pensavo... Eh, la zipline andava sul tetto da loro, micchia. Eh, la zipline andava sul tetto da loro. Io l'ho presa, la zipline era... Era, andava completamente verso di loro. Infatti, sono stato laserato io. Ah, perché più sotto non potevo metterla. Se ti piace, NicoMG, amerai. NicoMG, archivio. Il mio secondo canale YouTube dove carico contenuti quotidianamente, siano essi live integrali, come in questo caso, oppure gli spezzoni più interessanti delle live stesse, come in quest'altro caso. Lo trovate linkato nei commenti. Oh, potrebbe pusciare, potrebbe pusciare. Così, gracca a destra. Questa, ok? L'ho colpita abbastanza. Colpita anche lei. No, Ressandro, non lo so più. Ma come? Credo, non ne sono sicuro. No, per cazzo. No, due team. No. Uff, che culo. Hai un beacon, per caso? Certo. Facile. Che push di merda. Eh, 1v3. Così si pusha. Così si pusha. Così si pusha. Raca, 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 raca. Cagata. È il team del balloon. Buono. Ripende il balloon, forse? No, no, no. È atterrata lì dietro. Qua abbiamo anche le mura. Io la cassa non l'ho neanche mai guardata. No, ma non ho nulla di qua. Tante leggere, magari. Mirino laser, che non ho. Leggere sì, forse sì. Di smocco? Minchia, magari. Beh, leggeri ne aveva 40. Salito? Raca. One shot. Figa, gli ho fatto 140. Andiamo in sé, beccate. Prendete la zip dietro, prendete la zip dietro. Ho fatto 140, lori, mannaccio. Qua? Qua, lo vedete? Eh no, figa. Aspetta. Non spari subito. Io ho sparato per ultimo. Raga, ancora qua dietro in tre. Qua, qua. Qua dietro quello... Eh, è là dietro, vogliamo dire. Eh sì, sì, eh. Sto aspettando che esploda sta merda. Qua dietro dovrebbero essere in due o in tre. Uno solo è andato, uno solo. Guardiamo il secondo. Ce n'è un altro lì, sicuro. No, aspetta. No, non ce l'ho più uno. Eh, ora sì però. E l'ho anche ricraccato. 13 flash. Figa, raga, una granata lì. Io sto continuando a guardare loro, eh. Ciao, marica. Qua dall'angolino. Sono qua dietro. Sì, sì, sono lì a guardare, è meglio così. Meglio non so. Questi figa sarebbe... Aspetta, aspetta, faccio così, guarda. Knock uno. L'ho cagato, ribo questo. Arrivano gli altri, oh. Arrivano gli altri. Andiamo una mano, Nico. Eh, ce n'è uno solo, l'ho confermato. Ce n'è uno solo. Fatto, fatto, fatto. Il re di conduit, proprio lui. Il re di conduit, il più forte. Ho 80 leggere. Sopra non è giocabile, no? Ma è dricciato lì dietro, il porco. Ma quanti sono lì? Almeno in due. Si potrebbe provare sopra, se hai messo in Z primo. Sopra mi ispira. Raga, sopra è buonissimo, sopra. Ho 100 leggere, io. Eh, io ne ho 50. Vabbè, AFK qua, easy. No, sotto è inbincabile. Sì, 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 infatti via. Ma no, 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 no. Dov'è chiare questi a destra? Ah, volendo. Eh, ma ho paura. Da sinistra non ci sono più. No, 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 i colpi. No, non picco. No, ma infatti non faccio neanche io, sennò non posso fightare alla fine. Passiamo nel chill. Oh, io non picco proprio ora. Cioè... Ho chi ditto? Ehi, guancio, ti impatti. Buono, buono. Ok, ok, ok. Chill, 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 chill. Non scendete mai, mai, proprio mai. No, 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 no. Volevo vedere se potessi già buttare la ulti. Potrebbero farlo. Se lo fa, sono pronto io. Rivo, restiamo full, che adesso è importante. Quello dietro l'albero sta messo meglio di tutti. Che palle le smoke, raga. Quello dietro l'albero. Quelli di sotto si busciano, quelli di sotto si busciano. Secondo me. No, ho craccato uno di quelli davanti, oh. Raga, quelli davanti noc'uno e distrutto uno. Buttiamoci sotto? Ma io faccio quello davanti, scusa, che era distrutto. No, raga, raga, raga. La Bangalore era one, la Bangalore qua. Si è fatta la battery, però. Si è fatta la battery, occhio. Raff, sono da solo, però. Si va, poca vita, poca vita, eh. Bravissimo. Tilenda, tilenda. Non avrà tanto, bravo. Si, cazzo. Bravi. Volevo prendere la Bangalore prima, però, figa, era tutta scildata dall'ausiliario. Non era fattibile. Io alla fine un cazzo. Sì, 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 tutti noi. Io alla fine non ho fatto un cazzo. Beh, cazzo, non ho fatto un cazzo. Ho lasciato quella la Bangalore, ho preso la Conduit, nel senso. Però era proprio all'angolino con quel cazzo di ausiliario. Niente, io oggi sono... Io oggi, tutti i fight trollati contro sti ausiliari di merda. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Bello, 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 bello. Vabbè, ma che c'entra, Edo? Ma perché è stato bannato col primario, quindi non c'entra nulla. Sono cattivi, eh? Ma, figa, no, eh, raga, mi sono bloccato. Mi serve aiuto. Io c'ho la connessione. La connessione è ravemente. Presa la Bangalore. Crack da me. No, 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 rivo, piano. Un secondo. Pusciola, pusciola, pusciola. Manca il drive. È da me? Preso, preso, preso. Scudi, nemici, distrutti. Qui c'è uno. Andiamo da questa parte. Sì, arrivano. Eh. Un aiutino per i tuoi scudi. Knock uno. Non volo posta dietro. È tutto fatto. È tutto fatto. Wazo, ti rev. Seba, pusciati in pat. Seba, pusciati in pat. Seba, pusciati in pat. Sto facciando la batteria? No, l'altro è risalito. L'altro è risalito. Seba, avevo distrutto il revio. One in pat. Preso. One in rev. Uno di vita, uno di vita. Occhio, occhio, occhio. Vado via, vado via. Gli ho fatto 12, non è morto. Preso, preso, preso. Porco Dias, basta! Due third party di fila. Avete rotto il cazzo! No. Ma sono crashato. What? Seba, ti prego, salvati. Ti prego, salvati tu. Ce la posso fare. Non ce la posso. Due third party di fila non ce la posso fare. Madonna, che vita di merda. Che vita triste. Che vita trista. Ti cesano. Non lo so, non lo so. Dai, spero di no. Io un secondo. Ma no, no, no. Tu continua a correre. Tu continua a correre che mi becco il boost di velocità. Se tu continui a scappare, figa, scappo anch'io. Ah, volendo, qua posso anche rilutarmi. Ah, figa! Minchia è vero. Ah, ti rispondo dietro? Eh, secondo me sì, si riluta pure. Allora, sì. Metto le siringhe e ti rispondo. Possiamo lutare anche noi, eh. Finalmente, le otto casse delle persone che abbiamo ucciso. Potremmo entrare da molo o da dietro, tipo. Non so quanto convenga. Beh, sì, è meglio che entrare dritti, figa. Tanto se c'è gente a molo o non entriamo uguali da qua? Posso mettere il balloon qua? Quando venite. Balloon? Posso mettere il balloon? Eh, boh, sì. Ma va, io farei il balloon. A piedi, così? Ci facciamo sentire. Beh. E niente, a posteriori vi posso dire che sarebbe stato meglio utilizzare il balloon perché è finita in questo modo. Eh, tu riesci, tu ci riesci o no? Eh, per questo volevo fare il balloon. Il balloon lo volevo fare. Eh, ma se non so, a terra era easy. Eh, vabbè, io no, però. Io sarei morto in ogni caso. Aspetta, rimoriamo. Io neanche facendo le siringhe in terza safe entravo. Per questo volevo fare il balloon. Quando mi incattire adesso se va. Secondo me è mezzo che t'hanno sentito prima. No, no, no. Sì, 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 mi sa. Vabbè, oh. Di lusso, di lusso, di lusso. Raga! Six-mener. Dove ho pingato? Non stanno feitando. Siamo in top 11, non stanno feitando, sono six-mener. 100%. Andiamo al counter. Guardano tutti in stessa direzione. Stanno arrivando verso di qua. Mannaggia il c***o, porco di***o. Oh, non basta. Eh, vabbè. Esterni e dagli altri tanti. Ah, no, ma siamo tre diversi. Andiamo in safe. Sicuro? Un team six-mener è morto, a me sa. Sì? No, non ti garantisco, ma forse sì. Guardalo lì. Non pigliate da niente. Adesso aspettiamo, aspettiamo, aspettiamo. Aspettiamo, aspettiamo, aspettiamo. Eh, certo, certo. Eh, f***a, ha avuto un po'. One shot, uno. Knock at 2, raga, knock at 2! Knock at 2, dimmi, stati questi, eh! È uno, è uno, è uno. Due, due, due. È flash, è flash, è flash, è flash. Affanculo, spariti sulla cassa. È f***o, ho fatto due lock di barriera energetica. Oddio. Oddio. Oddio, l'abbiamo in stato. Oddio. Dopo due anni. Eccoci, che renobbi, cambieranno. Oddio. Cos'è questo miraggio? Ragazzi, vi ringrazio per la visione. Fatemi sapere, come sempre, con un commento, come stanno andando a voi queste ranked. Se questo video vi è piaciuto, supportatelo con un mi piace e iscrivetevi per non perdervi i prossimi. Appuntamento in live tutte le sere, come sempre, tutti i link utili qui sotto nel primo commento in evidenza. Buona serata. Tut'è.